Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, Good Morning Milano, 7-10 minuti di oggi mercoledì 13 marzo, ben ritrovati qui in diretta su Crystal Radio con questo nuovo appuntamento di Good Morning Milano. La città si sta svegliando e noi con loro e voi con noi. Tutti insieme andremo avanti tutta la mattinata fino alle 9 e poi dopo di noi tanta tanta altra bella musica e tanti programmi come ad esempio SentiQuesta, con Ambrogio Curti, ma insomma tantissimi, nel pomeriggio lo sport con Stefano, insomma tantissimi programmi qui su Crystal Radio che inizia in questo istante la programmazione di oggi mercoledì 13 marzo, il giorno Colinetta, il mercoledì, quindi mi raccomando affrontiamolo nella migliore delle maniere, 331-78-53555 è il nostro numero di Whatsapp a cui potete scriverci, a cui potete raccontarci quello che avete fatto nei giorni scorsi, quello che farete oggi o quello che avete in previsione di fare nei prossimi giorni oppure anche semplicemente solo salutarci e darci la carica per affrontare al meglio questo mercoledì. Oggi abbiamo detto appunto mercoledì, ma soprattutto è il 13 marzo, compleanno di Luciano Ligavue, 64 anni fa, il ragazzino, giovane, com'è? 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 Del Lucianone che però, sì, non è un brano proprio della mattina, però diciamo che forse è il brano, io credo uno dei più simbolici di lui, forse il brano che più lo simboleggia, non lo so, sa di fatto che ci sono certe notti che ti fanno cantare e altre che te le fanno cantare ancora di più. Certe notti, Luciano Ligavue. Luciano Ligavue, certe notti, buon compleanno a Luciano Ligavue appunto oggi nel giorno del suo compleanno di oggi, il 13 marzo. 3317853555 e al Whatsapp di Alberto arriva puntuale come ogni mattina, buongiorno Cristallini e buongiorno Fabio. Arriva la primavera, ieri pomeriggio prima passeggiata al parco dopo 20 giorni, no, dopo giorni, scusa, e 21 gradi di temperatura, è vero, ieri faceva veramente caldo, non è normale comunque che si passi da quasi 0 a 21 gradi così da botto, comunque vabbè. Primavera non lo so se terrà ancora un po', in realtà tutta questa settimana dicono che dovrebbe tenere, però non illudiamoci, comunque marzo è pazzerello si diceva sempre, quindi attenzione. Che la primavera però stia arrivando è anche dal Corriere della Sera, perché, scusate, da Repubblica, Repubblica Milano, che fa un articolo dedicato a chi? Ai campi di tulipani. Eh sì, riaprono i campi di tulipani lombardi, dal milanese all'Odi e dall'Abrianza alla Bergamasca, quando sarà possibile immergersi tra i fiori. Allora, non tutti hanno fissato una data certa ancora a colpa delle condizioni meteo molto instabili delle ultime settimane, ma si sta per arrivare a un dunque. Io ci tengo anche a ricordare tulipani italiani, ve lo ricordate? Cornaredo, poi Arese, adesso è ad Arese, Edwin Coman, ve lo ricordate? È stato qui da noi, vi ricordo, il primissimo anno, appena pochi giorni prima di aprire il primo campo di tulipani, pick-in, pick-up, self-in, non mi ricordo come si chiama, quelli che sono dove tu vai, scegli, te lo tiri su da solo, quello nel cestino, poi vai e paghi i tulipani che ti vuoi portare a casa. Comunque è stato qua ospite e, infatti, sabato 16 marzo apre ufficialmente tulipani italiani ad Arese con Edwin Coman insieme alla sua compagna e per i primi giorni fino a venerdì 22 marzo l'ingresso sarà gratuito in quanto solo una piccola parte del campo sarà fiorito. Poi, da sabato 23 invece, occorrerà acquistare il buono d'ingresso su tulipani-italiani.it così che si possa anche contingentare un po' gli ingressi perché poi esploderà, sappiamo benissimo, l'esplosione di colori che avviene poi in questo appezzamento di terra sempre più grande vicino al centro marciale di Arese, per intenderci, comunque ad Arese, giusto per capire, una volta che acquistate il buono, che vale dal 23 marzo fino al 21 aprile, costa 4 euro, vi dà diritto all'ingresso e alla raccolta di due tulipani. tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, poi sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.30. Adesso magari vediamo, dopo chiamo Edwin e vediamo se lo riusciamo a portare ai nostri microfoni anche quest'anno, che insomma è davvero ormai stata un'istituzione. Io vi parlo di questo ma perché è quello più famoso qui nella zona di Milano e poi anche perché Edwin è un amico, quindi ci tenevo a raccontarlo, ma ci sono anche nella Bergamasca ad esempio i tulipani di Maddi, si chiama così, sì, i tulipani di Maddi, che aprirà il 18 marzo, quindi prossimo lunedì, poi ci sono anche, sempre nelle porte di Bergamo, c'è i tulipani di Valdastino, che appunto anche lì tantissimi, che però ancora non ha definito una precisa data, ma insomma tanti campi, insomma tutta Lombardia ne trovate, in provincia di Bergamo tantissime sto vedendo, anche a Terno d'Isola ce n'è un altro, tulipania, insomma ce n'è per tutti, come invece ce n'è sempre per tutti e tutti i giorni di traffico nella nostra città, ma per fortuna noi abbiamo luce verde. Michael Jackson, Smooth Criminal alle 7.25, 7.25 minuti che significano anche una piccola pausa per noi, sì, adesso andiamo un attimo in pausa, ancora una canzone, un paio di consigli per gli acquisti e poi ritorniamo qui, perché dobbiamo parlare di una notizia che è uscita appunto questa mattina sui giornali, perché ieri è successo praticamente di tutto durante una commissione consigliare, di fatto che è successo, Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, a un certo punto ha sbottato, ha detto stai zitta, da lì ci rientra, e soprattutto gli ha detto anche smetti di parlare tu, ma vai al parchetto con i tuoi figli, poi, ma che dici, non fare la moralista, ma insomma, lo sentiamo dopo perché De Chirico sarà in collegamento telefonico con noi, fra poco, e ci spiegherà cosa è successo, poi anche Giungi ha litigato con il presidente della commissione Orso, tra parentesi, si aggiungi che Orso fanno parte della stessa maggioranza, insomma, è successo di tutto, sapete perché? Perché hanno deciso che chiunque faccia un'iniziativa con la parola Milano dentro, debba un attimo rendere conto al Comune, chiede una delibere e tutto. Un buongiorno a tutti, da Good Morning Milano. Comacose con l'addio, mercoledì 13 marzo, vi abbiamo detto proprio prima della pausa appunto di quello che è successo ieri durante una commissione di consiglio comunale, una delle due parti, l'abbiamo al telefono perché abbiamo Alessandro De Chirico, buongiorno insomma, dormito poco, dormito poco, allora diciamo, posso usare una parolaccia anch'io, tanto lei l'ha usata in commissione, De Chirico, ma che cazzo è successo? Cosa è successo? La commissione era abbastanza concitata, era un seguito di una precedente per discutere di questa nuova delibera, Marchio Milano, chiamiamola così, per cui chi deve registrare un marchio, un brevetto, va alla Camera di Commercio e la Camera di Commercio se c'è il nome Milano all'interno di questo marchio deve chiedere il parere al Comune, recependo una legge nazionale che io trovo illiberale perché si ammazza la libertà di impresa. Lei De Chirico non è molto d'accordo appunto con questa delibera, sta di fatto che però ieri, mentre stava discutendo con la consigliera Rienta, insomma, è un attimo sbottato. Me ne dispiace, ho scritto una mail stamattina, presto, perché sicuramente i toni sono stati sopra le righe, però rivendico assolutamente il mio diritto di potermi esprimere. Il video che è stato pubblicato da un giornale è uno stralcio di un paio di minuti, però c'è stata una commissione prima, io stavo facendo il mio intervento, ero in macchina, stavo andando alla riunione tra i video. Fate troppe cose, se c'è la commissione fate la commissione, qui vi fanno fare la destra e la sinistra. Dopodiché poi ha recriminato all'Ariente una cosa che poi stamattina mi ha fatto sorridere come ci ha sentito un messaggio per organizzare questa telefonata, perché gli ha recriminato il fatto di andare al parchetto con i bambini e questa mattina invece noi abbiamo dovuto, giustamente, anzi viene da dire, impostare la telefonata in base a quando doveva portare a scuola suo figlio all'asilo, quindi anche lei comunque ha queste incombenze. Sì, alle 7 di mattina, ma io non mi permetto di contestare quello che fanno gli altri, ci mancherà di altro, ma non voglio neanche che mi si faccia la morale e su questo io ho sbottato, perché la collega l'anno scorso era collegata in spiaggia, altri facevano la doccia, altri ancora passavano l'aspirapolvere. Io non mi sono mai sognato di dire a un collega cosa deve fare durante una commissione, c'è questa modalità, la vogliono mantenere. Scusi, mi sta dicendo che ci sono consiglieri comuni che si collegano da sotto la doccia? Non voglio sapere i nomi, non voglio sapere i nomi. Lo scorso mandato era uscito, qualcuno si era dimenticato di spegnere la telecamera ed era collegato dal bagno a petto ludo, si stava asciugando, era uscito poi sui giornali. Le commissioni sono meglio di Olli Fans, mi sta dicendo questo, benissimo, perfetto. Io stavo andando, stavo recando nella sede di WeBuild per un incontro con lo studio Arco Associati che è presentato, grazie a me, grazie al sottoscritto, uno studio che ha riacceso il dibattito sullo stadio che si era ormai arenato e le squadre sembravano già destinati ad andare via da Milano e quindi stavo lavorando per la comunità, non stavo andando al parchetto a farmi i fatti miei. Ancora, non dica così che poi l'Arienta si incazza, non dica così del parchetto. Eh no, ma l'Arienta ogni volta che adesso si collegherà... De Chirico, aveva iniziato bene la telefonata, ha detto che si dispiace, che si scusa con la consiglia dell'Arienta. Mi sono scusato, mi hanno dato una mail all'Arienta alla collega d'Amico, anche al collega Orso perché io stavo discutendo con lui, la collega d'Amico è intervenuta accendendo il microfono senza averne facoltà perché non stava presiedendo, siccome ovviamente... Posso dire però, De Chirico, che forse vi potete beccare di persona e fare queste commissioni di persona che stai in modalità qua, ma litighiamo tra parenti, tra parenti litighiamo su WhatsApp. Sono anni che lo dico, sono anni che lo dico. Fate qualcosa, perché comunque non è bello vedere che litigate così. Trovarsi di persona... No, ma infatti io mi sono scusato, ieri ero incazzato, scusa il termine. No, no, adesso mattina li abbiamo domani. Comunque poi mi hanno gettato addosso, ovviamente pubblicando un video, uno stralcio di due minuti, poi c'è la registrazione integrale su YouTube della commissione. Voglio dire, io tra l'altro con le colleghe sfido chiunque dei consiglieri comunali che siedono oggi in comune a dire il contrario, che io non abbia un buon rapporto, o quasi tutti, cioè sono uno assolutamente che dialoga. Eh, però poi dopo il fango che ti gettano addosso, devo tu chiedere la mia bacheca, perché commentano sotto la foto di mio figlio, adesso puoi portarlo al parchetto tu, vai al parchetto, perché poi ovviamente mi sono espresso male di dire vai al parchetto, ma poi si sente vergognati, mi viene a fare la morale, quindi si intuisce che io mi riferivo a un episodio specifico e d'ora in poi con la collega rientra, solo con lei, ogni volta che sarà collegata da un posto, non consono, visto che lo rimprovera a me un'altra volta, era già capitato, ero in ospedale. Ma glielo faccio notare con un Whatsapp, non in diretta così, glielo faccio notare con un Whatsapp, proprio, cioè scrivete vita di voi. Eh no, eh no, eh no, quando pubblicamente mi si dà del fannulone, tra l'altro sostenevi, stavo raccontando perché sono contro questa delibera, perché appunto ammazza la libertà di impresa, e lei diceva l'opposto, mi riferiva, mi metteva in bocca all'opposto di quello che stavo dicendo, e quindi su questo purtroppo ho perso le staffe, io sono una persona impulsiva, ho reagito male, ma di certo non sono un misogino, un maschilista, assolutamente, la mia condotta politica lo dimostra per me. Adesso sono sotto, sono nella tempesta, ma sono sicuro che non uscirà, sono sicuro che non uscirà, ma non ne ho dubbi. Infatti, sono sicuro che, insomma, sì, è passato infatti effettivamente il messaggio che lei magari si è stato un po' misogeno in quel momento, diciamo che in realtà, molto probabilmente, il suo, mi passi, mi passi, poi ci conosciamo da Chiricro un po', quindi mi passi questa battuta, il suo brutto carattere sarebbe uscito con chiunque che ci fosse stato dall'altra parte, un uomo o donna che fosse. Perfetto, ok, va bene. Purtroppo è già capitato, ma sono cose che capitano a tutti e poi si chiede scusa e si va avanti. L'importante è chiedere scusa, bravo, bravo, chiedere scusa e capire che, insomma, magari la prossima volta cerchiamo di tenere dei toni un po' più giusti. Peccato che qualcuno abbia mandato in giro il video e non abbia aspettato a bocce ferme. De Chiricro, quella roba lì succede ovunque ormai, succede anche al catastro, nell'ufficio, a scuola, succede ovunque. Ho sbagliato, ho sbagliato. Siamo sempre sotto l'occhio di grande fratello. E mi sono scusato per i toni e gli epituti, non per i concetti che ho espresso, che ho ribadito qua, perché io poi non amo i moralisti. Soprattutto se chi vuole moralizzarmi non rispetta, diciamo, le linee di condotta che vuole inculcare agli altri. Che fatica De Chiricro, però sempre sulla crina lei, è sempre lì che rischia di scivolare giù. La salviamo noi, la salviamo noi con la musica, così siamo tranquilli che non mi caga di tenere giù un'altra volta. No, grazie mille però per aver espresso la sua, per aver anche chiesto scusa alla consigliera Rienta. Poi comunque, tanto ci risentiremo più avanti, perché sono due temi interessanti su cui parlare. Uno, lo stadio, vogliamo sapere cosa sta succedendo. Due, comunque sta delibera che appunto, insomma, siamo a rischio noi. Noi ci chiamiamo Good Morning Milano. Siamo a rischio oppure noi siamo salvi? No, perché non è retroattiva. Ah, perfetto, ok, grazie. Però, paradossalmente, se io domani dovessi inventare la chiave a brugola a Milano e mi trovo una persona che mi ha in antipatia, che conosce le mie doti imprenditoriali e mi vuole tarpare le aree all'interno del comune, mi può bloccare. È una roba assurda, è una roba assurda. Speriamo che mettono dei paletti per far capire e far venire le cose un po' più fluide. Grazie mille De Chirico, buona giornata e si vada a godere il suo figlio e non gli insulti che arrivano. Adesso lo preparo come tutte le mattine per portarlo a Milano. Da bravo misogeno. No, stiate, De Chirico, però io cerco di salvarla lei veramente. A volte è indifendibile, c'è poco da fare. Va bene. Grazie De Chirico, buona giornata. Buona giornata. Angelina Mango con la noia. Qui invece non ci sono noia mai. Avete sentito quello che è successo ieri in commissione del Consiglio Comunale. Abbiamo sentito Alessandro De Chirico. Stiamo cercando di sentire anche Alice Arienta, ovviamente, per far dire anche la sua. Siamo contenti, almeno però, di sentire che De Chirico ha chiesto scusa per quello che è successo. E sì, i toni sono sempre un po' complicati. E soprattutto mi dispiace che poi rimangano stupiti del fatto che il video finisca sul giornale. Ma lì è così, ragazzi. Chiunque, io in questo momento, vabbè sono in diretta, sulla radio e tutto, ma anche i backstage, anche voi, cioè siamo sempre con gli occhi del, io li chiamo gli occhi del grande fratello, addosso. Dopodiché, non vuol dire dover sempre essere appositamente attenzione a quello che dice o così, però prenditi le tue responsabilità. Cioè, se io dico una cosa che non va bene, che sia in onda o fuori onda, mi devo prendere le mie responsabilità. Poi, il problema è anche la decostitualizzazione, quella roba lì, avete capito, no? Contestualizzare in maniera non corretta quello che avviene. Ecco, però, in questo caso, insomma, abbiamo capito, anzi, e ha messo anche De Chirico, che insomma, i toni sono stati un po' troppo alti. De Chirico ci raccontava che stava andando a un incontro con WeBuild per il futuro dello stadio, perché le società sembrava che finalmente abbiano recepito un attimino questa idea di ristrutturare San Siro e di far diventare uno stadio per Milan e Inter, ma in Milan non sappiamo ancora se cosa sarà, perché ieri è successo quello che è successo. Dai giornali, tutti quanti lo scrivono, lo leggiamo noi da Corriere Milano, Milano, Milan, indagati, Furlani e Gazidis, la società è ancora di Elliot, perquisizioni in sede, il rischio anche di sanzioni sportive, e sì, perché ieri perquisizioni nella sede del Milan, anche per il suo predecessore Gazidis, per la sede del club acquistato nel 2022 dal fondo Red Beard di Jerry Cardinale. L'ipotesi del PM è che la società invece sia ancora di Elliot, la procura quindi procede per ostacolo all'autorità di vigilanza. Cosa significa? Che il fondo Elliot nel 2022 ha venduto, il 31 agosto 2022 così dice in un comunicato, ha venduto al fondo Red Beard di Cardinale il Milan. Ma sembrerebbe che in realtà non sia così. Sembrerebbe che in questa compravendita ci sia comunque sempre di mezzo anche ancora il fondo Elliot che in realtà detiene la proprietà finale del Milan e che quindi non sia stato fatto quello che è stato dichiarato e quindi oltretutto quando le autorità hanno chiesto di avere le carte di capire quello che è successo il Milan così dicono i PM ha ostacolato e quindi l'ostacolo appunto all'autorità di vigilanza cioè ha detto no la FIGICI aveva chiesto di capire meglio questo passaggio di proprietà come era andato come era funzionato ma sta di fatto che il Milan ha detto di no o meglio ha in teoria così con i PM ostacolato l'attività del garante così per cercare appunto di nascondere cosa quello che è l'ipotesi in questo momento al vaglio cioè che il Milan sia ancora del fondo Elliot questo apre tantissimi nuovi scenari sia dal punto di vista sportivo appunto diciamo del rischio che il Milan possa avere delle situazioni sportive ricordiamo Milan a secondi classifiche in questo momento ma ha 16 punti dalla capolista Inter quindi sarebbe veramente disastroso per il campionato in corso se arrivassero delle sanzioni sportive anche ma soprattutto potrebbe cambiare tutto quanto dal punto di vista dello stadio perché San Donato il terreno comprato a San Donato l'idea di costruire lo stadio là ma dall'altra parte l'idea di ristrutturare San Siro pensate che le ultime cifre danno sui 350 milioni di euro l'operazione di ristrutturazione di San Siro e ha fatto i conti bene su quello che invece sarebbe stata l'operazione del buttare giù il vecchio San Siro costruire quello nuovo e tutto l'altro era un miliardo di euro quindi capite che non è semplice come operazione ma bisogna capire se questa operazione la puoi fare con una società che verrà indagata con una società che ha grossi problemi a livello anche sportivo rischia di conseguenza a livello finanziario ricordiamo che per una squadra di calcio ad esempio è fondamentale per una squadra di calcio di questo livello riuscire a fare la Champions League se non fai la Champions League il tuo bilancio si dimezza se non anche ulteriormente più basso diventa rispetto a quello dell'anno in cui tu hai fatto la Champions League capite che con un bilancio più basso con un introiti più bassi non si può costruire lo stadio non si possono comprare i calciatori che ti portano ad avere introiti più alti insomma è un gatto che si muove dalla coda ma che porta davvero a delle situazioni molto complicate soprattutto se poi riportiamo tutto quanto come dicevamo nel nostro vissuto e nel nostro territorio per capire quindi questo stadio si farà o non si farà San Donato il Milan Rozzano l'Inter San Siro quale futuro per lo stadio di San Siro dobbiamo rimanere ancora qui per l'ennesima volta a guardare Loredana Bertè Fieri di Fala Cosa Giusta Buongiorno Corinne Buongiorno grazie per questo invito ma grazie a te per averci riportato per l'ennesimo anno ma siamo contenti che sia così Fala Cosa Giusta appunto che è una delle fiere più forse importanti ormai iconiche della nostra città che però lascio dire a te bene di cosa tratta perché insomma ogni volta che me lo chiedono io dico 200 cose diverse però forse perché fate veramente tante cose accomunate però da un unico tema la sostenibilità la sostenibilità in tutte le sue forme e l'attenzione la consapevolezza verso i consumi siccome dicevi te fa la cosa giusta diciamo che è una cornocopia di appuntamenti e di temi che poi riflettono la parte espositiva perché appunto la fiera ha una sua dimensione espositiva che è suddivisa per sezioni tematiche che non fanno altro che riflettere quelli che sono i nostri comportamenti quotidiani le nostre scelte d'acquisto e ci dicono in che modo noi possiamo avere potere sulle nostre scelte d'acquisto in che modo possiamo essere più consapevoli per cui ci sono c'è una sezione dedicata al modo in cui ci vestiamo all'alimentazione ai bambini al turismo alle associazioni che si occupano di ambientalismo e aspetti più economici e sociali accanto a tutto questo panorama diciamo espositivo dove appunto si può acquistare in maniera attenta e consapevole e creare anche una relazione con chi ti vende il prodotto conoscere quello che c'è dietro i prodotti le storie l'impegno a volte le fatiche dietro i prodotti si sviluppa un intero palinsesso culturale quindi otto sezioni tematiche e un palinsesso culturale pensato a misura di adulto e di bambino perché tutti i temi che trattiamo legati appunto alla sostenibilità poi cerchiamo di divulgarli anche agli esseri umani in forma junior in particolare il venerdì in cui aspettiamo le scuole quest'anno abbiamo più di 4.000 studenti che invaderanno la fiera dai piccolissimi della scuola dell'infanzia fino ai più grandi delle superiori a cui dedichiamo un intero palinsesso di attività specifiche invece poi il sabato e la domenica attività di ogni genere su tantissimi temi ma anche con modalità diverse mostre incontri laboratori degustazioni sportelli per consultare esperti quindi un ventaglio molto ricco di possibilità ce n'è veramente per tutti e per tutti i gusti che voi siete bambini o non che voi li supportiate o non non necessariamente dovete amarli per andare a fare la cosa giusta potete tranquillamente viverla anche senza incontrarli oppure invece viverla insieme ai vostri figli e insieme ai vostri bambini ma anche appunto se non avete figli se volete solo sapere di turismo se volete solo sapere di critical fashion la cosa interessante è perché in realtà uno magari va lì con l'idea di voler approfondire un tema ma poi viene contaminato perché insomma poi è tutto molto ben disposto e insomma ti viene voglia anche di scoprire il resto no? Sì penso che la parola che ho usato contaminazione fotografi in maniera molto precisa uno dei nostri più grandi intenti nel senso che magari uno veramente viene lì perché è interessato a cosa fare quest'estate è un appassionato magari di cammini e di cena ma questo anno vorrei andare in bicicletta e scopri che ci sono una maria di tour per retro ci sono delle guide specializzate per quello e poi seguendo all'incontro scopri che magari dietro questa storia di cammino e di bici c'è una storia incredibile legata a una parte di produzione agricola e scopri che c'è un produttore agricolo in Puglia che fa delle cose pazzesche con i pomodori a un progetto sociale quindi ti rendi conto di come singole storie singoli progetti si compongono di reti reti attorno per cui è importante accendere lo sguardo rispetto a come guardiamo il mondo con curiosità cercano di cogliere la complessità che lo compone quindi è un invito a essere curiosi a farsi contaminare a farsi travolgere a essere molto curiosi infatti è interessante come di solito per invece semplificare la complessità delle cose magari si crea un glossario uno decide facciamo le parole importanti per la nostra fiera succede spesso in tante fiere va bene decidiamo quante ne mettiamo cinque sei dieci voi avete fatto un glossario delle parole essenziali distintive di fare la cosa giusta di ottanta parole questo fa capire veramente quanta quanta roba c'è no? vuoi dire ma sai che cosa ci siamo resi conto arrivati a questi vent'anni che guardandoci indietro vent'anni sono una vita di come le parole siano cambiate siano evolute alcune abbiano perso completamente il loro significato originale e ne è stato attribuito un altro alcune sono nate ex nove ormai sono fanno parte del nostro linguaggio comune e perdersi questo valore sul tema delle parole ci sembrava un po' un peccato quindi abbiamo ingaggiato un giornalista di altre economie che sono una parte della nostra rete di collaborazioni Massimo Acanfra con cui abbiamo appunto costruito questo preziosissimo glossario un glossario appunto con le parole del consumo dell'economia dell'ecologia della terra del cibo del turismo responsabile della pace della guerra ovviamente e anche ce ne sono due che mi hanno colpito perché poi avete fatto anche le parole nuove tra cui appunto c'è ecoansia che è una parola che sentiamo spesso che magari però andrebbe spiegata bene perché troppo spesso noi giornalisti magari la raccontiamo male forse vittime di un'altra parola che c'è nel vostro glossario che è quella della parola della comunicazione che è infodemia queste due cose vanno spesso parallele vanno spesso parallele e ti dirò di più mi aggancio a quello che è il tema di questa edizione è rendere visibile l'essenziale siamo partiti anche lì dicendo ok sono vent'anni di cosa parliamo c'è così tanto da portare quale può essere il filo rosso di questa ventesima edizione e la sensazione collettiva è stata proprio che siamo immersi in un contesto popolato di troppe informazioni in cui siamo appunto bombardati è un bene nel senso che poi internet è stato un acceleratore i social hanno il loro potenziale però spesso ti ritrovi in una condizione paradossalmente di povertà di informazioni perché ne hai talmente tante talmente tanti punti di vista opinionisti pubblicità che si trovi a volte in più confusione per cui il troppo a volte tende a creare ancora più confusione e ci siamo detti ma perché non torniamo all'essenziale perché non proviamo a fermarci un attimo e rallentare tutto questo rumore tutto questo caos che ci circonda e tornare a quelle che sono le scelte i valori su cui in questi ultimi vent'anni ci siamo basati e guardando nei prossimi venti provare a dirci ok queste scelte questi valori sono ancora validi sì no vanno cambiati vanno innovati vanno ripensati però il focus è tornare all'essenziale fermarsi un attimo per tornare al concetto di essenziale su tutti gli ambiti da quelli più semplici della nostra quotidianità a quelli più complessi che a volte magari per consuetudine diamo per scontate ma non è così ecco poi voglio dare un consiglio a chi ci sta ascoltando da uno che insomma su 20 edizioni credo di averne fatte almeno 15 tutte si vede spesso e ventiera a fare la cosa giusta qualcosa o anche solo un oggetto o un modo di fare un modo di dire che poi casualmente e non è casualmente nei mesi dopo diventa qualcosa che tutti conoscono e tutti sanno quindi in realtà siete anche trendsetter in certe situazioni cioè io ci penso nella vita mia ad esempio il primo pannello solare l'ho visto lì da voi che c'erano dei matti venivano definiti che dicevano potete mettervi il pannello sopra la casa poi adesso c'erano tutti qua con anzi le leggi che ci impongono di metterli giustamente sopra nelle costruzioni nuove quindi insomma è anche questo interessante come veramente non siete solo cioè appunto uno potrebbe pensare legati alla terra legati a delle tradizioni a volte appunto prima parlavamo anche magari dei presidi anche di slow food o cose del genere che spesso e volentieri si possono incontrare e vedere ma questo in realtà vuol dire essere legati al futuro spesso e volentieri poi uno dei temi a cui siamo più affezionati è legato all'innovazione come dicevi te allora nel 2004 forse siamo partiti un po' come divisionari appunto intercettando una necessità di cambiamento che poi per fortuna è cresciuta forse un po' in ritardo a livello globale però è cresciuta e secondo me l'altra cosa interessante al di là appunto è dar spazio a questi visionari è nel riuscire ad amplificare alcune idee alcuni soggetti virtuosi che partecipano in fiera che con noi hanno fatto proprio un salto e spesso ti dirò questo salto è anche dovuto al fatto che partecipi a fare la cosa giusta come espositore e ti rendi conto che ci sono appunto altri soggetti che come te la pensano e diventa un lavoro di forza collettiva nel senso che si uniscono le forze ognuno mette un pezzo magari un piccolo progetto che era un po' zoppo si migliore diventa qualcosa di veramente concreto con le gambe per poter camminare andare lontano quindi torna il tema della relazione partire da belle idee che abbiano un impatto sulla collettività sull'ambiente ma che poi hanno bisogno di più soggetti quindi non il singolo ma in tanti si può fare con la collettività che poi anche la comunità che c'è ormai intorno a fare la cosa giusta perché davvero esiste una vera e propria comunità ormai che vive intorno a voi non sono solo follower come dire no? ci sono gli affezionati che ci tengono alla presenza alla relazione perché è quel valore aggiunto che con internet che ha portato tantissimi vantaggi ovviamente un po' hai perso perché ovvio che tutto quello che succede online perde di un pezzettino e guadagna un altro però si perde spesso appunto questo il valore delle persone il valore delle cose e a fare la cosa giusta c'è il tempo e lo spazio per poter riconquistare questi aspetti ebbene quindi ricordiamo le date Corinne quando è che inizia? inizia venerdì 22 marzo quindi il prossimo weekend è giornata dedicata alle scuole ma anche a tutti i visitatori e finiamo il domenica 24 siamo aperti dalle 9 alle 20 consigliamo caldamente di acquistare i biglietti online per risparmiare tempo e denaro sul sito nella pagina visitatori ma anche in home page oltre al programma culturale trovate anche l'acquisto dei biglietti che è diviso anche per pacchetti famiglia abbonamenti su più giorni quindi trovate tante modalità diverse e 9 e 20 vi consigliamo di venire in bicicletta ovviamente perché vabbè è raggiungibile dalla fermata metro portello che ho proprio davanti ma se si può spostarsi in bici fatelo anche perché abbiamo uno spazio dedicato alle biciclette come ripararle un parcheggio ad hoc quindi spazio anche all'artinalità e al fai da te e poi vi invito a visitare appunto il nostro sito focalizzandovi sugli espositori del programma culturale perché ce n'è veramente per tutti i gusti per tutti gli interessi come dicevo non solo incontri ma anche attività momenti di restare parte per riparare gli oggetti con degli esperti momenti dedicati ai piccoli con il muse del miramare quindi ce n'è veramente di tutto e tantissimi ospiti importanti anche molto conosciuti come Giovanni Storchi mi scudono bene 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 allora non mancheremo dal 22 al 24 marzo all'amico ventesima edizione quindi insomma edizione anche importante non potete mancare otto stizioni tematiche 32 mila metri quadri di esposizione 300 aziende che arriveranno a tutta Italia per raccontarvi appunto una possibile vita sostenibile che insomma si può fare anzi fai la cosa giusta a quel punto proprio giustamente quindi fatela anche voi la cosa giusta e andate a fare la cosa giusta Corinne grazie mille grazie mille a voi buona giornata a tutti buona giornata a te andiamo avanti con la musica adesso è il momento di D'Argent Amico con Onda Alta alle 8 e 19 minuti sempre qui su Cristian Radio Good Morning Milano D'Argent Amico con Onda Alta e vi richiediamo ancora l'appuntamento con Fa la cosa giusta dal 22 al 24 marzo al Mico ventesima edizione pensate veramente io adesso prima ho fatto la battuta non ne avrò viste almeno 15 ma soprattutto ho visto le primissime ero lì negli anni primissimi anni 2000 appunto in quella di zona tortona è lì che è nata e poi dopo si è spostata ovviamente con il grande successo che ha avuto si è spostata poi alla Fiera di Milano Milano City tipo adesso Mico insomma tanti tanti di espositori abbiamo detto 32 mila metri quadri di stand non ho idea di quanto siano so che è tanto perché sono tanti perché quando si parla mille mille milioni è tanto ma non ho idea minimamente di quanto sia tanto un bel po' diciamo così un tot un bel po' ok va bene andiamo avanti con la musica dai è il momento di andare in pausa perché abbiamo qualche consiglia da darvi così che possiate acquistare responsabilmente e soprattutto finanziare Crystal Radio insomma è importante anche quello perché se no non sappiamo come andare avanti tutti i giorni quindi mi raccomando rimanete ancora qui con noi perché poi torniamo ancora qui per l'ultima mezz'ora di trasmissione in diretta fino alle nove sempre qui su Crystal Radio 331 7853555 il nostro numero di whatsapp fm96.2 la frequenza su cui potete sentirci il dub plus su tutte le autoradio in tutta la Lombardia e poi sito internet crystalradio.it oppure la app per ios o android insomma non scappate ce n'è sempre per tutti ce n'è sempre per chiunque voglia ascoltare Crystal Radio e adesso un classico Giannannini con cinema Alessandra Moroso fino a qui come è che dice la canzone devo dire che non sapete che non l'avevo ancora ascoltata bene questa canzone ma in fondo in fondo non è no non è vero no sì dai non è così male devo dire la verità ma prima Alessandra Moroso a me sta simpatica non so perché comunque va bene andiamo avanti con le notizie perché vi leggo la notizia e voglio sapere chi di voi riesce a capire di cosa stiamo parlando più che altro perché siamo degli ignoranti che non sappiamo certe parole credo Repubblica Milano in titola Milano Bisarca sfonda un finestrino del tram durante la svolta rileggo Bisarca sfonda un finestrino del tram durante la svolta chi è Bisarca cos'è una Bisarca è una persona ma prima di tutto è un qualcosa o un qualcuno dai ditemelo no è un qualcosa bravi la Bisarca quindi una Bisarca in fase di svolta tra via Bartolina e via Le Monteceneri si è scontrata con un tram della linea 19 a Milano durante la manovra la parte posteriore della Bisarca è entrata in contatto con il tram sfondandone un finestrino avete capito cosa è una Bisarca? parte posteriore di una Bisarca è il camion che porta le macchine eh sì il camion quello aperto no? due piani dove ci carichi sulle automobili quella si chiama Bisarca lo sapevate? 3-3-1 7-8-5-3 5-5-5 benvenuti a lezioni in italiano for Dummies no non è vero non sapevo che si chiamasse Bisarca forse l'avevo già lo sapevo ma l'avevo rimosso forse evidentemente sta di fatto che ieri appunto è successo questo incidente all'angolo tra via Bartolini via le Monteceneri e traffico ovviamente in tilt finché non hanno sistemato tutto quanto perché il tram è seduto a fermare poi riesce nella gente sposta il tram mandalo in deposito fai girare la Bisarca mi chiedo cosa ci facesse una Bisarca in via Bartolini che è una via strettissima però vabbè credo ci sia un concessionario da quelle parti non vorrei che uscisse da lì però non mi sembra c'è un video che gira sia su Repubblica che su Welcome to Favelas che fa vedere appunto quello che è successo pochi minuti dopo l'incidente via Bartolini ovviamente completamente bloccata Monteceneri completamente bloccato 90-91 che ha dovuto fare la Gincana per riuscire a passare insomma ore di confusione poi per fortuna tutto è tornato a posto non ci sono stati feriti per fortuna nessuno nessuno si è fatto male però poteva anche qui l'ennesimo problema di una città che è fatta a misura di automobili ma non è più a fatta a misura di automobili perché comunque i trasporti si scontrano e gli incidenti stradali sono sempre di più e secondo me continuo a dirlo come diceva come è stato qua anche uno degli esponenti di Legambiente che ce l'aveva raccontato diceva bisogna cominciare a pensare a una città che divida i flussi ognuno deve avere il suo spazio quindi i camion i tram e gli autos dovevano andare il trasporto pubblico i pedoni soprattutto avere un delle sedi protette in cui essere tranquilli e girare perché adesso questa volta presumiamo hanno preso il tram ma poteva essere l'ennesimo motorino oppure peggio ancora l'ennesima bicicletta tirata sotto da un camion cosa che ahimè sappiamo è già successa più volte nella nostra città rapnea Emma alle 8.43 minuti crystal radio io devo ringraziare i miei ascoltatori che ci ascoltano molto molto attentamente poco fa abbiamo parlato di fare la cosa giusta abbiamo detto che insomma 32.000 metri quadri di esposizione e come al solito con un paio di metri quadri io ho detto ma quanto sono boh che ne ho non ho idea e invece al 3317853555 ci vengono in aiuto e ci dicono allora tenete presente che 10.000 metri quadri sono un ettaro quindi qui stavo per dire e quindi giustamente poi l'ascoltatore aggiunge sotto un altro messaggio e dice un campo da calcio ha un'estensione di circa 0,7 ettari quindi già siamo vicini quindi possiamo dire che 32.000 metri quadri sono tre campi da calcio e un tocco diciamo quasi tre e mezzo quasi quattro più o meno beh io ringrazio grazie grazie mille D'Ambrogio che ci ha scritto appunto questo whatsapp al 3317853555 quindi ogni volta che diremo ah 10.000 miliardi di metri quadrati tenete presente che un campo da calcio sono meno di 10.000 metri quadri sono 0,7 ettari non so fare il confronto non so se sono quindi 7.000 non lo so non lo so non voglio entrare nel discorso comunque 10.000 metri quadri sono un ettaro e un campo da calcio ha un'estensione di circa 0,7 ettari chiedo quindi al nostro amico ma quindi un campo da calcio sono 7.000 metri quadrati non lo so non so fare le conversioni tra metri quadri e ettari queste cose qua ho fatto il tecnico ma forse quel giorno ero assente Coldplay Let Somebody Go insieme a Selena Gomez e abbiamo una bella notizia da leggere da Repubblica Milano per tutti gli universitari che sono all'ascolto o che magari sono qua a produrre anche la trasmissione così ogni riferimento ai nostri producer è puramente casuale perché sì allora leggiamo da Repubblica Milano la statale sarà gratis per altri 8.000 studenti no taxare fino a 30.000 euro di reddito ISE quasi la metà degli iscritti non pagherà più le tasse e sì perché la no tax area per le famiglie salirà dagli attuali 22.000 arrivando fino a 27.000 studenti quindi rincari però nelle fasce più alte quindi attenzione poi che se invece siete di sopra mi spiace per voi e sì una no tax area che si allarga estesa ai redditi fino a 30.000 euro prevenendo così l'esonero delle tasse universitari per altri 8.000 studenti e questa è la strada intrapresa dalla statale per dare supporto economico agli iscritti con i redditi più bassi il senato accademico ha dato parere favorevole a una proposta della commissione tasse interna all'ateneo che prevede una modifica dell'attuale regolamento sui contributi degli studenti per frequentare i corsi e laurearsi nella più grande università pubblica lombarda attualmente sono circa allora attualmente era 22.000 euro si passa a 30.000 euro ampliando così la platea dei beneficiari che oggi sono circa a 19.000 che diventeranno con i nuovi criteri intorno ai 27.000 tenete presente che in questo momento ci sono alla statale di Milano 60.000 iscritti quindi quasi la metà degli iscritti rientrerà in questa no tax area quindi se così fosse adesso che poi dovrà essere approvato definitivamente dal prossimo anno accademico ci sarà poi una rimodellazione rimodulazione complessiva del sistema di tassazione con importi complessivamente più bassi rispetto ad oggi per gli studenti con un reddito inferiore comunque ai 78.000 euro quindi chi è sotto quella fascia comunque va a spendere meno rispetto ad oggi ci saranno invece dei rincari un pochino più alti per chi invece supera ed è sopra la soglia dei 78.000 euro qual è l'importo massimo che può pagare chi vuole studiare in statale? in realtà si oscilla in circa tra i 3.200 euro i 4.100 euro a seconda appunto dei corsi di studio tutto questo vale ovviamente per chi regola con gli esami o è fuori corso massimo da un anno poi si possono invece superare tranquillamente i 6.000 euro per chi invece è fuori corso da più tempo questa modifica insomma è molto interessante non è quella la cosa avete visto quel video social in cui alla università credo sia la Columbia University Albert Einstein University di New York una signora molto benestante ha fatto una donazione di qualche miliardo di dollari per cui l'università è diventata gratuita per tutti da qui ai prossimi anni per sempre e questa comunicazione è stata data durante una lezione magistralis in in aula magna all'insaputa di tutti gli studenti che hanno ricevuto questa notizia sono ovviamente saltati in una grandissima ovazione e felicità perché anche sappiamo poi i costi altissimi dell'università statunitensi dei debiti scolastici che poi si portano avanti per anni che vanno a lavorare poi per potersi pagare i debiti fatti durante il periodo scolastico beh non è la stessa cosa ma sicuramente insomma avremo altri 8.000 studenti che saranno un po' più sereni nell'affrontare questa università che è tanto tanto complicata non solo a livello dello studio ma soprattutto anche a livello di costi 8.56 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano di oggi mercoledì 13 marzo dopo di noi Ambrogio Curti con senti questa per iniziare al meglio la mattinata qui su Crystal Radio anche nelle vostre autoradio nelle vostre case grazie anche all'app o anche dimentico sempre agli smart speakers Alexa Google domani è giovedì domani ve lo dico non avremo Tamara Malleo perché è via per qualche giorno ma poi tornerà stimola prossima a raccontarci di teatro ma avremo comunque tanti altri ospiti anzi domani parliamo di musica con un'artista pazzesca no non è non è pazzesca nei ragazzi di Porta Venezia no 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 non è mischietta non è lei Cecilia o meglio Cecilia Reimar domani un milione passa visualizzazioni su tiktok sarà qui con noi ne parleremo buonanotte buonanotte fiorellino grazie a tutti per averci ascoltato e anche guardato su Milano News o ascoltato su Crystal Radio grazie a tutti noi ci risentiamo domani mattina alle 7 qui sempre su Crystal Radio con Good Morning Milano buona giornata a tutti ciao ciao